Nessuno mette i suoi figli su una barca a meno che l'acqua non sia più sicura della terra. Questo glielo lascio a memoria perché le parole che lei ha utilizzato ieri, ma io aggiungerei anche in conferenza stampa, per noi non sono assolutamente accettabili. Quindi mi auguro che avrà lei modo di poterle correggere. Grazie.